Fare prevenzione è fondamentale per garantire la salute individuale e per salvaguardare la sostenibilità del sistema sanitario soprattutto in questo periodo, caratterizzato da un'emergenza pandemica che comporta un aumento dei costi a fronte di risorse limitate. Anche per questo l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la trasformazione degli stati generali dello sport e del benessere in stati generali per la prevenzione e il benessere, organismo e luogo di confronto con tutte le realtà piemontesi che operano nell'ambito della prevenzione della salute. Dopo aver sostenuto le campagne di Ottobre Rosa contro il tumore al seno a fianco dell'Istituto di Candiolo, il Consiglio regionale per tutto il mese di novembre sosterrà la campagna Un baffo per la ricerca, promossa dalla Fondazione Ricerca Molinette e dedicata alla prevenzione maschile. Questo mese con la ricerca con il baffo anche il Consiglio regionale con gli stati generali si avvicinano a questo sistema di prevenzione per il tumore alla prostata, un sistema di prevenzione che deve essere fatto tutti i mesi dell'anno a 360 gradi, uno screening globale per fare in modo tale che i cittadini piemontesi si sentano più al sicuro nel sistema sanitario e ci sia un maggior rapporto diretto fra istituzioni e fondazioni identiche che stanno cercando di dare maggior sollievo tecnico al sistema sanitario e anche sollievo sanitario ai cittadini piemontesi. I fondi raccolti nel corso della campagna sosterranno un progetto finalizzato a individuare il profilo genetico dei tumori alla prostata invisibile alla risonanza magnetica, circa il 20% del totale, molto insidiosi perché difficili da diagnosticare in fase precoce e generalmente aggressivi. Tanti i modi per aderire alla campagna, acquistare i gadget griffati con il baffo, postare sui social la foto di un piatto scelto tra le proposte culinarie della rete dei locali che aderiscono all'iniziativa, oppure farsi fare la barba da uno dei barbieri amici. Il Consiglio regionale darà visibilità sui social istituzionali alla campagna, condividendo con l'hashtag UnBaffo per la ricerca i post della Fondazione su Facebook ed Instagram, invitando i consiglieri a postare le foto profilo col baffo. Tutte le informazioni sulla campagna, sui locali aderenti e sulle possibilità di sostegno sono disponibili su www.fondazionericercamolinette.it